Torna il progetto di Estra Energeticamente, il progetto scuola di educazione ambientale sul risparmio energetico che viene effettuato anche quest'anno in collaborazione con la Lega Ambiente. La novità importante riguarda l'estensione alle scuole superiori con l'introduzione di un progetto di alternanza scuola-lavoro per ciascuna delle aree storiche di Estra. A Siena a raccogliere l'invito è stato l'istituto Tito Sarrocchi con due classi partecipanti, una del liceo tecnologico, l'altra dell'istituto tecnico industriale ad indirizzo energia. La linea che porta i giovani ad essere sempre più coinvolti nell'alternanza scuola-lavoro, di cosa parliamo? Parliamo di una grande azienda del territorio, ormai assurta a livelli nazionali, che esposa i buoni progetti e le buone pratiche anche nel settore dell'alternanza scuola-lavoro con l'eccellenza del mondo scolastico. Per noi il Sarrocchi e il suo preside Pascini è un punto di riferimento. A Siena siamo una delle più importanti aziende e quindi siamo felici di poter contribuire con i nostri uffici, con la nostra controllata estraclima a questo allargamento del nostro progetto di Energicamente, che non più e non soltanto si rivolge ai più piccoli, diciamo, sui temi dell'educazione ambientale, ma facciamo crescere questo progetto coinvolgendo le scuole superiori e condividendo con i vari profili scolastici di questo importante istituto senese appunto l'aspetto divulgativo e progettuale sul tema dell'efficienza energetica, con la nostra azienda che fa un po' da tutor a questi ragazzi che si dimostrano sempre di più capaci di affermarsi dopo la fase scolastica. I ragazzi verranno coinvolti direttamente nel mondo del lavoro perché proprio di questo si parla, alternanza scuola-lavoro, una cosa importantissima per introdurre i giovani appunto nel mondo poi che sarà quello del loro futuro, speriamo, il lavoro. Dunque, il Sarrocchi è una delle realtà di istruzione, formazione tecnica e scientifica, in termini anche di numeri, tra le più importanti della Toscana. Noi quest'anno calcoliamo che arriveremo ad erogare quasi 100.000 ore di alternanza scuola-lavoro in azienda. Ovviamente queste attività richiedono una disponibilità da parte del mondo del lavoro, una disponibilità da parte delle aziende non solo a ospitare i ragazzi ma a renderli parte attiva dei loro processi produttivi. Questa è praticamente la continuazione della nostra collaborazione con Estra all'interno del progetto Energicamente e quest'anno appunto ci vede collaborare su questa iniziativa dell'artenanza scuola-lavoro. Vedrà collaborare appunto l'associazione nella parte che riguarderà la comunicazione, quindi tutta la fase del progetto che prevede per le classi la raccolta di esempi, di buone pratiche da un punto di vista energetico, ciò che è già stato fatto in città e nelle nostre zone. Noi aiuteremo appunto le classi a raccogliere queste informazioni, a capire bene di cosa andiamo a cercare proprio per la parte che riguarderà l'informazione in termini di sostenibilità energetica e raccolta appunto di questi esempi che sono fondamentali anche per poterli replicare in altre realtà o magari anche nei privati cittadini. Si chiama invece ufficiale